Spero che la regione torni sui suoi passi, Matteo Ricci non arretra di un millimetro, continua lo scontro istituzionale sui tamponi tra il sindaco di Pesero e l'assessore regionale alla sanità, Filippo Salta Martini. Dopo il no della regione a cui il primo cittadino aveva chiesto una parte dei 600.000 tamponi rimasti inutilizzati da impiegare appunto per lo screening agli studenti delle superiori, Ricci ha deciso di andare dritto per la sua strada. E così a partire da giovedì 28 gennaio a Pesero il Comune offrirà tamponi rapidi ad 8.400 studenti e ancora ai docenti e a tutto il personale ATA altri 1.100 membri. Un investimento di circa 80.000 euro che l'amministrazione comunale ha tinto direttamente dal fondo Covid. Saremo costretti a fare da soli, faremo da soli con le nostre forze, con le nostre risorse, sostituendoci alla regione. È un'iniziativa che doveva fare la regione, la poteva fare. La regione grazie alla bella iniziativa dello screening gratuito ha almeno 600.000 tamponi in questo momento inutilizzati e le marche potevano diventare la regione più sicura per il rientro scolastico perché questi tamponi potevano essere effettuati anche periodicamente dando davvero maggiori garanzia della sicurezza all'interno della scuola. Poi noi abbiamo proposto di mettere a disposizione il personale, fino all'ultimo c'è stato detto che i tamponi ci sarebbero stati dati e poi ci si è inventati una motivazione burocratica, diciamo che non sta nei piedi né in terra e ci è stato detto di no. Abbiamo dovuto spendere 36.000 euro nei tamponi mentre ce ne sono 600.000 della regione chiusi in un magazzino. Non capisco perché a Pesaro si potrà tornare a scuola in maggiore sicurezza grazie al nostro sforzo e non lo si possa fare in tutte le scuole marchigiane per tutti gli studenti. I tamponi saranno effettuati in più date da circa 30 medici ed infermieri come spiega l'assessore alla salute del comune di Pesaro, Mila Dell'Adora. Quattro saranno i siti individuati, il campus scolastico, il Santa Marta, il Cecchi e il Mengaroni. Lo screening parte il 28 per i ragazzi che rientreranno la prima settimana, il 25 di gennaio e nella seconda settimana abbiamo ipotizzato le date del 2-3 febbraio per i ragazzi per l'altro 50% che rientrerà la settimana successiva. Sono tanti gli operatori volontari che abbiamo trovato, da medici, infermieri, quindi una grande squadra che coordinerà il tutto. Ovviamente come avete già sentito il comune è promotore di questa iniziativa ma non sarà il titolare sanitario dei dati, quindi nessuna preoccupazione in questo senso. Faremo firmare un modulo di consenso da parte dei genitori, l'adesione sarà su base volontaria, quindi il ragazzo minorenne avrà anche l'autorizzazione del genitore, invece nel caso di maggiorenne comunque compilerà un'autodichiarazione lui.